Dal primo giugno, finalmente, i Musei Vaticani riapriranno al pubblico. Riapriranno dopo quasi tre mesi di chiusura, con un rinnovato spirito di condivisione. Condivisione del patrimonio universale, straordinario, di storia, di arte e di fede che preservano da secoli. Riapriranno con tante novità, come questa che è dietro le mie spalle, il restauro del Salone di Costantino, la quarta e grandiosa Sala delle Stanze Vaticane di Raffaello. Riapriranno con delle novità emerse da questo restauro la figura della giustizia e della comitas, che il restauro ha testimoniato essere di mano del grande e del divin pittore Raffaello Sanzio. Riapriranno anche con delle novità che riguardano la Pinacotaca Vaticana, sempre relativa a Raffaello, la Sala Ottava dedicata a lui in quest'anno di celebrazione di Raffaello, è completamente rinnovata, rinnovata nell'illuminazione, ma anche nel restauro della giovanile Pala Oddi, peruginesca e straordinaria, e in un nuovo allestimento con le ritrovate cornici ottocentesche e napoleoniche, che sono state riposte in logo. Grazie a tutti.